Tu non sei maggiormente santo se ricevi delle lodi, né maggiormente cattivo se ricevi dei rimproveri. Sei quello che sei e non puoi essere ritenuto più grande di quanto tu non sia agli occhi di Dio. Se fai attenzione a quello che tu sei in te stesso, interiormente, non baderai a ciò che possano dire di te gli uomini. L'uomo vede in superficie, Dio invece vede nel cuore. L'uomo guarda alle azioni esterne, Dio giudica invece alle intenzioni. Agire bene sempre e avere poca stima di sé medesimi è segno di umiltà di spirito. Non cercare conforto ad alcuna creatura è segno di grande libertà e di fiducia interiore. Chi non cerca per sé alcuna testimonianza dal di fuori, evidentemente si abbandona del tutto a Dio. Infatti, come dice San Paolo, non riceve il premio colui che si loda da sé, ma colui che è lodato da Dio. Procedere tenendo Dio nel cuore e non essere stretto ad alcun legame che venga di fuori. Ecco la condizione dell'uomo spirituale. Ecco la condizione dell'uomo spirituale. ecco la condizione dell'uomo spirituale.